Abbiamo con molta attenzione verificato quali sono gli aventi diritto, stiamo ancora lavorando su questo, domani si riunirà una delegazione di nostri dirigenti, compreso il direttore amministrativo, con i responsabili di GPI perché abbiamo messo sul sito l'elenco e abbiamo aspettato che qualcuno ci accepisse qualcosa in maniera tale che domani si sciolgano anche le ultime perplessità e Sanità Service abbia a disposizione l'elenco certificato dall'unico soggetto che può certificare, cioè l'attuale gestione del servizio.